Charles Bukowski ci sono notti così brutte che le dita non si muovono sui tasti e tanto vale rinunciare a scrivere tanto vale mettersi a sedere andare a letto in attesa della vita della morte di una sorta in quelle notti la letteratura non vale un fico secco la tua o quella di chiunque altro